Siamo con Matteo Brezzo, club del Calì, stasera playoff, qui è arrivato anche un altro gentile ospite, tu sei? Andrea D'Amato Insomma, club del Calì, squadra che è arrivata appunto a questi playoff, quindi bene, un ottimo torneo Sì, siamo la sorpresa del torneo e stasera cercheremo di dimostrarlo ancora una volta in più Che squadra siete? Tu sei capitano, siete giovani mi sembra di vedere, no? Con l'età media? Siamo circa tutti del 90 e siamo il primo anno qua alla Sportland, abbiamo fatto il campionato e altri due tornei, questo è l'ultimo e speriamo di arrivare in semifinale e giocarcela Qual è il vostro punto di forza? Avete buona qualità tecnica, velocità? Sì, buona qualità tecnica, una solida fase difensiva e un buon portiere Un grande capitano Siamo tutti capitani alla fine, porto io la fascia ma siamo talmente amici e da talmente tanto tempo che ognuno rappresenta al meglio la nostra squadra Avete le maglie più belle del mondo, dunque, potete solo vincere, questo bel colore Beh, per forza, per forza, questa è stata la mia idea, ma da stia a parte, ho convertito in teristi e milanisti vari Infatti, grazie e buona partita Grazie a voi Grazie a voi